Sexy Show a Los Angeles, dove gli angeli di Victoria's Secret hanno dato vita a una passerella aggressiva, romantica e ovviamente molto molto sensuale. Ma guardate un po' chi c'era al seguito di Heidi Klum, Adriana Lima e Tyra Banks. The Spice Girls, ospiti d'eccezione dell'evento alla loro prima apparizione televisiva in suolo americano da quando si sono riunite. Le cinque ragazze del pop, ormai un po' cresciute, hanno interpretato uno dei loro pezzi storici, reggendo alla grande il paragone con le modelle dai fisici scultorei. E bisogna dire che l'entusiasmo è lo stesso dei primi tempi. Siamo così eccitate, dice la MC, siamo entusiaste del tour che stiamo per iniziare, ma in questo momento siamo fiere di far parte di uno show così magnifico. Jerry Halliwell ne approfitta anche per scherzare sul nome del brand americano Victoria's. Ci piace molto, dice rivolta all'amica Victoria Beckham. E i Flash sono davvero tutti per loro, nonostante lo show abbia ospitato altre grandi star, dalla casalinga disperata Eva Longoria a Seal, che ha accompagnato la moglie Heidi Klum. Negli Stati Uniti sarà proprio la casa di bianchiera intima Victoria's Secret a vendere in anteprima il nuovo Greatest Teeth delle Spice, un contratto in esclusiva per cui le cinque ragazze riceveranno ben 5 milioni di sterline.